Quando la burocrazia riserva piacevoli sorprese anche a distanza di quasi vent'anni. E' il caso del Tifernate Italo Bianchini, classe 1948, congedato dall'arma dei carabinieri con il ruolo di appuntato e scelto. A distanza di anni, dall'inizio della meritata pensione, si è visto riconoscere con tanto di decreto del Ministero della Difesa la promozione al grado di maresciallo ordinario. Dunque è nata che bisogna ripartire un pochino lontano, da quando mi sono concedato ho avuto la riforma del 5 febbraio 1991 e uno quando va in pensione pensa alla pensione, però io avevo anche diritto del grado superiore, ma dovevo fare delle domande, una cosa in altre, non le ho fatte. Poi, grazie al Covid, in questo frangente, che non è la parola giusta, però mia moglie, io sono abbonato alle Fiamme d'Argento, al giornale Carabinieri, e lei li legge, io li sfoglio, ma lei li legge tutti. E ha trovato un articolo di legge, in decreto legge, l'ha valutato per bene e mi ha detto Italo, tu hai diritto al grado superiore, io mi sono messo a ridere, ha detto tu ridi, adesso ci penso io con il Ministero della Difesa. Ha preso il computer, ha fatto una pecchia e da lì si è messa in moto la pratica. E io mi arriva una telefonata dalla stazione Carabinieri qui del luogo, che doveva andare giù in caserma, e mi hanno fatto una relata di notifica che, come appuntato scelto, ero iscritto nel ruolo d'onore del Comando Generale. Per me già toccava una mano col cielo. A un certo punto, passa un po' di tempo, arriva un'altra comunicazione, sempre dal Ministero della Difesa, che dovevo produrre dei documenti amministrativi. Questo è stato fatto e dopo ancora altri 3-4 mesi, ma tutto a cavallo, tra il 2021 e questo il 2022, mi arriva una telefonata dal Ministero della Difesa, un colonnello che, presso dall'emozione, io mi ricordo manco il nome, e mi fa proprio queste testuali parole. Parlo col signor Italo Bianchini? Sì, io credevo che era il tartufaio di torno, perché come sapete sono segretario da diversi anni. e questo mi fa, dice, guardi, allora io le comunico che da adesso in poi parlo con il maresciallo ordinario, qualcuno che mi fa uno scherzo, no? Mi metto a ridere. E questo è rimasto un pochino sbalordito. Poi ho ripensato, dico, ma guardi che dico io, quando ero in servizio ero appuntato scelto, ero. Ecco, ma lei ha fatto domanda. Allora, quando mi ha detto della domanda, mi sono ricordato che quella è stata una più grande emozione, una gioia. Un prestigioso attestato, seppur tardivo, da mettere in bella mostra nel salotto di casa, accanto alle altre mille soddisfazioni che la vita gli ha riservato, anche nell'attività che ha svolto da tempo. È stato tra i fondatori e tesoriere dell'associazione Tartufaia al Tavare del Tevere, consigliere dell'associazione Nazionale Carabinieri, sezione colonnello Valerio Gildoni di Città di Castello, iscritto all'associazione Anteas e al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.